buona domenica a tutti amici ed amiche di facebook beh il maestro cristian ruggieri anche oggi vuole tenere compagnia un po la voce bassa non so se si sente però l'importante è che suoniamo qualcosa oggi con la tastiera elettronica vi voglio proporre qualche cover nazionale e internazionale rivisitato un po la mia maniera sia nei ritmi che nei suoni non mi altro che augurarvi un buon ascolto e buon divertimento e se volete potete anche ballare se vi fa piacere andiamo all'Andrea Focelli. Pronti? Si cambia, suono, si viaggia, si vola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E questa è la prima. Spero vi sia piaciuta. Un bel moderato Fox è quello che ci serve per iniziare questo piccolo mix che vi sto presentando. Ed è il miglior modo per iniziare sempre, come dire, il ballo in ogni serata che speriamo di andare a rifare molto molto presto. Va bene. Andiamo avanti. Facciamo, facciamo, facciamo dopo questo moderato qualcosa di più soft. Nella fattispecie andremo a proporre una begin, in questo caso di un DJ a me molto caro, il mio DJ preferito, Gigi D'Agostino. E andiamo, 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 andiamo a proporre l'amour toujours. Che cos'è? Adesso la vediamo subito. Programmiamo, altrimenti qua poi non andiamo a tempo, no? Ed è un bel problema, eh? Ok? Andiamo. Andiamo. Sì, va! Grazie a tutti. Dedicata a tutti i cuori innamorati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo giunti all'arrivo finale, un mondo pieno di suoni, eh? Quello che ci ha portato all'arrivo. Oh, bene, 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 qualcosa di diverso è sempre ben gradito. Spero lo gradiscano soprattutto i miei amici del gruppo, del Gigi D'Agostino, group fan in questo caso, che saluta ad uno ad uno, Sir Cristian Ruggeri, le sue melodie, le sue divisitazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Andiamo a concludere questo mini mix che stiamo, ripeto, proponendo in questa domenica. E andiamo a concludere con una colonna sonora di un film famoso, beh... Il gradiatore. Vediamo un po' cosa ne viene fuori, eh? Pronti? Si parte? Alligalli per coloro che danzano. Alligalli per coloro che danzano. Alligalli per coloro che danzano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.